Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto l'edizione numero 107 del Tour de France. Il ciclista del Team Emirates si è aggiudicato la cronoscalata del penultimo giorno con arrivo alla planche de Belfille, strappando la maglia gialla al connazionale Primoz Roglic, a cui non è bastato il margine di 57 secondi che aveva su Pogacar prima della prova contro il tempo. Roglic ha chiuso la tappa al quinto posto, perdendo un minuto e 56, e scivolando così al secondo posto della generale, a 59 secondi dal nuovo leader, atteso domani dalla tradizionale passerella parigina sugli Champs-Élysées. Completa il podio l'australiano Ricci Porte, staccato di 3 minuti e 30. Il migliore degli italiani è Damiano Caruso, decimo, a oltre 14 minuti dal vincitore. Pogacar corona un tour trionfale in cui ha vinto tre tappe e si è aggiudicato, oltre alla maglia gialla, anche quella a pua di miglior scalatore e quella bianca di miglior giovane. Un regalo di compleanno anticipato per lo sloveno, che lunedì compirà 22 anni ed è solo la seconda stagione da professionista. Pogacar aveva già mostrato le sue qualità l'anno scorso, quando al debutto aveva chiuso la vuelta al terzo posto.